Ciao ragazzi, siamo The Lizet Gone Air e siamo a Monfalcone alla manifestazione di Science Under 18. Allora, siamo qui per intervistare quattro ragazzi, che il primo si chiama? Gabriele, Davide, Marco, Mario. Ok, la prima domanda che voglio farvi è una cosa un po' teorica, di cosa tratta il vostro stand? E parla del teorema di Pitagora, che spiega che i quadrati costruiti sui cateti di un triangolo rettangolo formano l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Grazie mille. Avete avuto problemi a costruirlo o a montarlo? Allora, abbiamo avuto qualche problema nel costruire con la tridimensionalità, perché ovviamente il teorema di Pitagora è fatto su un piano, invece così abbiamo dovuto usare la tridimensionalità, è stato l'unico problema che abbiamo avuto. Sì, volevi continuare? Scusa. E avete avuto qualche problema, cioè vi siete fatti aiutare dai prof o da soli? No, inizialmente la prof ci ha dato un'idea, uno spunto su come costruirlo. All'inizio era il progetto, era farlo con l'acqua, al posto con il riso, però dopo abbiamo capito che bisognava farlo stagno, quindi era un po' troppo complicato, ma siamo riusciti a farlo tutto a casa, quindi non ci ha aiutato nessuno. Ah ok, grazie mille, per questo stand è tutto, ci rivediamo al prossimo stand.